E' un caso disperato, noi lo giudicheremo, a casa l'ho studiato, interessante affare. Cartella 23, vediamo cosa c'è, questa accusata nella nottata è andata a schiamazzare, dove siete stata nella notte del 3 giugno, questa cordia da voi sa per vorrà, con fedeltà, ma verità. Sono stata spasso nella notte del 3 giugno, sulla strada che verso il ponte va, insieme con papà. No, no, non è vero, ciò non è sincero, sì, lo proverò, quel che dico è proprio vero. Non voi siete stata nella notte del 3 giugno, sulla strada che porta verso il mai, lo vostro schiamazzare. Se avrò mentito, col cuor pentito, perdono chiederò, che c'è di male se nel cantare gran gioia provo ognor. Il pianto è bello, ma voi con quello svegliate la città, con questa corde, a chiuse porte dovrà deliberare. Oh, chissà il verdetto cosa dirà, chi lo sa, quel gran dottore che mai dirà. Mi vorranno perdonare, chissà, mi batto il cuore, la corte si avvicina per parlare. Dopo un'ora di gran discussione, la sentenza con sederità squillò. Poi per punizione, canterete una canzone, se alla corsa il motivo piacerà, sarete in libertà. Ho un sassolino nella carpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, batto il piede in giù, giro mi rigiro se trovo il debut. Che cos'hai? Un sassolino nella scarpa, guarda un po', che mi fa tanto tanto male, prova a piscchietta, cerco di cantar. Ma quel sassolino ne fa sempre mal. Carissimi colleghi, che cosa ve ne pare, stando così le cose, dobbiamo perdonare. E' bello si tanto, pur vogliamo provare, la relazione della questione in un archivio rimarrà. Grazie.